al sesto mese l'angelo gabriele fu mandato da dio in una città della galilea chiamata nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di davide di nome giuseppe la vergine si chiamava maria entrando da lei disse rallegrati piena di grazia il signore è con te a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo l'angelo le disse non temere maria perché hai trovato grazia presso dio ed ecco concepirai un figlio lo darei alla luce e lo chiamerai gesù sarà grande e verrà chiamato figlio dell'altissimo il signore dio gli darà il trono di davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di giacobbe il suo regno non avrà fine allora maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo le rispose l'angelo lo spirito santo scenderà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà con la sua ombra perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di dio ed ecco elisabetta tuo parente nella sua vecchiaia concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile nulla è impossibile a dio allora maria disse ecco la serva del signore avvenga per me secondo la tua parola e l'angelo si allontanò da lei la trinità non è l'argomento della nostra conversazione ma effettivamente il passo del vangelo che abbiamo appena letto la manifesta pienamente in tutta la sua misteriosa semplicità luca senza alcun desiderio di spiegare teologicamente qualcosa ehm ce la presenta così con così come essa è un unico dio nella persona del padre che chiama l'altissimo del figlio che si incarna e incarnatosi in gesù e dello spirito santo che ad ombra maria e genera così il figlio nella carne era soltanto per per evidenziare un aspetto di un passo del vangelo che forse che ci richiama altre cose insomma fatta questa permessa si può passare ad esaminare il testo io pensavo di dividere in due parti questa piccola conversazione prima guardando ciò che dice proprio il vangelo e poi eh trarre qualche spunto per la nostra riflessione personale dal 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 suo contenuto no allora questo il testo comincia nel sesto mese l'angelo gabriele fu mandato da dio nel sesto mese di cosa? Il sesto mese è riferimento al sesto mese della gravidanza dell'Elisabetta la madre di San Giovanni Battista di cui abbiamo parlato mi sembra nel nel primo nel secondo incontro dell'annuncio della nascita di San Giovanni Battista e i parallelismi fra l'annuncio fatto a Zaccaria il padre il sacerdote padre di San Giovanni Battista e quella a Maria saranno diversi in questo in questo esame del testo perché oggettivamente ci sono tante cose che che si assomigliano e che divergono tra le due tra le due scene descritte da Luca detto questo il secondo passaggio è fu mandata da dio in una città delle Galilea chiamata Nazare a una vergine vergine la vergine promessa sposa il qui interessante notare un fatto quando Luca chiama la Maria la vergine utilizza la stessa parola che la Bibbia nella versione dei 70 poi vi dico in mezza parola su questa versione utilizza per la profezia di Isaia sul la nascita che si riferisce alla nascita di nostro signore no? Isaia al capitolo 7 versetto 14 dice profetizza più che dice ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele cioè che significa dio con noi la stessa parola vergine che viene utilizzata in questo passo della Bibbia viene utilizzata da Luca proprio quasi per creare direttamente un rapporto fra la profezia e il suo avveramento che è manifestato nell'incarnazione e come inciso la Bibbia dei 70 è una versione della Bibbia della Bibbia ebraica quindi del vecchio testamento che venne fatta redigere in greco perché prima non esisteva una versione nel terzo secolo avanti Cristo da un faraone che voleva avere anche il testo del ebraico nella sua biblioteca d'Alessandre d'Egitto. Secondo una lettera del secondo secolo avanti Cristo di cui non si è certi circa la veridicità delle cose che racconta questo faraone che era Tolomeo Filadelfo chiese al sommo sacerdote di Gerusalemme di mandarli un certo numero di scribi che conoscessero bene anche il greco e secondo questa descrizione furono mandati sei scribi per resi da ogni tribù d'Israele quindi erano 72 e la cosa fu semplificata in 70 quindi quando si parla della Bibbia dei 70 si parla di questo testo della Bibbia ebraica in greco che peraltro è il testo che noi cattolici noi cristiani non tutti veramente perché i protestanti non usano tutto il testo noi cattolici sicuramente usiamo per come base dell'antico testamento che leggiamo sono i libri riconosciuti anche dalla chiesa. Il passaggio successivo mi sembra che possa essere uomo della casa di Davide a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Abbiamo visto la genealogia di Gesù mi sembra la volta scorsa o due volte fa. Allora la genealogia di Gesù come ci ha illustrato con dovizia di particolare Lewis è riferita essenzialmente alla persona di Giuseppe però ci sono alcuni elementi non solo nella tradizione che comunque sia ha un suo grande valore ma anche testuali che fanno ritenere che comunque Gesù sia effettivamente biologicamente discendente di Davide sia perché così si avrebbe e si ha l'avveramento della profezia che era stata formulata anche nel secondo libro di Samuele che Nathan dice quando i tuoi giorni saranno compiuti rivolgendosi a Davide e tu giacerai con i tuoi padri io assicurerò dopo di te la tua discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa in mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Questo è riferito a Gesù. In più considerate che la stesso San Paolo che ha la sua autorità anzi piena dice nella Lettera ai Romani al capitolo 1 versetto 3 riguardo al figlio suo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne quindi non mette in dubbio che anche biologicamente Gesù sia figlio di Davide e quindi anche Maria sia discendente di Davide. La stessa cosa poi affermata anche dai padri della Chiesa, primi fra questo da Sant'Ireneo di Leone che ha una sua particolare diciamo importanza perché è discepolo del primo vescovo di Smirne successore di San Giovanni evangelista. Quindi ha cognizione dei fatti quasi diretta dagli apostoli. e quindi si racconta insomma che è questo. E anche Tertulliano ne parla però Tertulliano che coevo sempre nel secondo secolo dopo Cristo che non è padre della Chiesa perché a tardetà diventò un po' eretico disse delle cose un po' strane quindi non viene sempre citato con piacere. Adesso passiamo al saluto dell'angelo. Ti saluto o piena di grazie il Signore è con te. Ti saluto o piena di grazie che è la traduzione italiana della traduzione latina che dice ave era anche in greco tratto da una parola che significa anche rallegrati che è sempre stata un po' considerata la base anzi l'inizio del Nuovo Testamento perché il Nuovo Testamento sapete è detto anche la buona novella rallegrati è inizio è l'inizio di un messaggio gioioso inizia con l'incarnazione di Gesù con l'annuncio dell'angelo a Maria. Questa considerazione non l'ho fatta io ma l'ho presa dal libro che vi consiglierei di leggere se avete voglia di Benedetto XVI sull'infanzia di Gesù. Lui ha fatto quel libro la trilogia Gesù di Nazareth è diviso in tre parti a secondo del periodo sono tutte e tre molto interessanti nell'infanzia di Gesù tratta anche di questo argomento. Invece il piena di grazia io vi posso leggere un pezzettino dell'encifra con cui è stata dichiarato il dogma dell'immacolata concezione di Maria perché spiega esattamente cosa vuol dire. Piena di grazia, l'arcangelo rivela la dignità e l'onore di Maria con questo saluto insolito. I padri e i dottori della chiesa hanno insegnato che con tale singolare e solenne saluto, mai uditosi, si rendeva manifesto che l'amare di Dio era colma di tutte le grazie divine e ornata di tutti i carismi dello Spirito Santo per cui mai soggiacque alla maledizione, ovvero sia il peccato originale, fu cioè preservata da ogni peccato. Queste parole dell'arcangelo costituiscono uno dei testi in cui è rivalato il dogma dell'immacolata concezione di Maria. Passaggio successivo. Al saluto, Maria rimane turbata. È interessante per questo turbata considerare un aspetto. Anche Zaccaria, quando l'angelo Gabriele gli annuncia la nascita di Giovanni, rimane turbato. Però è singolare vedere che il verbo che viene utilizzato in greco, mentre per Zaccaria dice effettivamente turbato, per Maria utilizza un superlativo per cui è come se fosse terrorizzata. Indubbiamente manifesta forse ancora di più l'umiltà, lo spirito umile di Maria di fronte a questa manifestazione prorompente e soprannaturale che deve essere stata l'annunciazione. Quindi viene, gli dice, ti saluto prima e l'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirei un figlio, lo darei alla luce e lo chiamerei Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Allora, il non temere, ne parliamo dopo, è un argomento che nella Bibbia è frequentissimo, nel Vangelo ancora di più. Il Signore raccomanda sempre, non abbiate paura, non temere. Adesso me ne vengono in mente due passaggi che sono, me ne vengono in mente, me ne ero scritti perché non mi viene in mente niente a quest'ora, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non possono fare nulla all'anima che è riportato in Matteo al capitolo 10, versetto 26, o di quando dice a Pietro non avere paura quando Gesù si avvicina alla barca camminando sulle acque e gli apostoli hanno timore che sia un fantasma, ma ce ne sono moltissimi altri. Poi, il passaggio successivo è Lombra. Lombra. Maria risponde, mi sono perso, scusatemi, non è Lombra, ho saltato un pezzo. Il figlio dell'Altissimo. Anche qui c'è da fare un parallelismo tra l'annuncio della nascita di Giovanni e l'annuncio della nascita di Gesù. Giovanni viene dichiarato nel Vangelo di Luca grande agli occhi del Signore. Gesù invece, proprio per manifestare la differenza fra quello che era comunque un uomo e Gesù che è un uomo ma è anche Dio, viene chiamato grande e figlio dell'Altissimo. Giovanni ha la missione di preparare il popolo. Gesù ha al fine lo scopo di regnare sul popolo. Giovanni è un profeta pieno di Spirito Santo, dice Luca. Gesù è più che un profeta perché è figlio di Dio ed è santo egli stesso, non pieno di Spirito Santo. In quanto generato da questo adumbramento, di cui parleremo dopo, di Maria ad opera dello Spirito Santo. E poi vi posso anche dire, e mi sono perso il punto, che il punto successivo invece è questo. Allora Maria disse all'angelo, come è possibile? Non conosco uomo. Non conosco uomo è veramente una dichiarazione, considerando il significato del verbo conoscere nell'Antico Testamento. Maria è proprio un'esplicita dichiarazione da un lato della sua virginità, dall'altro che non lo conosceva e che quindi insomma non c'era la possibilità materiale che potesse avere un figlio. Evidenzia quindi la certezza, il Luca della virginità di Maria e la natura miracolosa del concepimento di Gesù. Questo sicuramente. Ma poi evidenzia anche un'altra cosa. Maria sostanzialmente dicendo, come è possibile non conosco uomo, chiede come avverrà. Si limita, si pone un problema pratico. Mentre possiamo notare la differenza con Zaccaria nel passo che abbiamo visto la settimana scorsa, che invece si pone il problema di come potrò conoscere. Quindi Zaccaria dubita, Maria non dubita, si pone soltanto il problema di capire. Ed è un atteggiamento anche questo sicuramente di umiltà, perché chiedere per capire non è un presunzione, anzi è proprio ciò che rappresenta l'umiltà. E l'angelo gli risponde, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Questa benedetta ombra ha tanti predecessori e tanti richiami. Uno perché la presenza di Dio si manifesta sovente come un'ombra. Si presenta sotto forma di nube che precede gli israeliti che camminano nel deserto del Sinei durante i 40 anni nel deserto. Si presenta nella trasfigurazione del Signore sul monte Tabor, quando gli apostoli rientrano in una nube che fa ombra, e che quell'ombra è la manifestazione pratica della presenza del Signore. E ancora, è una manifestazione della discesa dello Spirito Santo dall'alto, che richiama anche negli Atti degli Apostoli, sempre scritti da Luca, all'inizio, le parole di Gesù che dicono «Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi». Il passaggio successivo è «Nulla è impossibile a Dio». Anche questo ha dei suoi richiami. Perché «Nulla è impossibile a Dio» Adesso li devo ritrovare, eccole qui. Lo troveremo sia, si trova in altri passaggi di Luca. In Luca 18-27, nei Fai Rish, raccontavano quando dopo la parabola del ricco, no, dopo l'incontro col giovane ricco, Gesù dice che è più facile che un cammello entri nella cruma di un agro, piuttosto che un ricco entri nel regno del Cielo, e gli chiedono. Dissero allora «Chi potrà essere salvato?» Risponde Gesù «Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio». E richiama soprattutto il passaggio della Genesi in cui viene annunciato ad Abramo che Sara, seppur anziana, avrebbe avuto un figlio. E dice esattamente «C'è forse l'angelo che parlava ad Abramo? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore?» E poi gli conferma «Al tempo fissato, tornerò da te, alla stessa data e Sara avrà un figlio». Quindi vi sto mostrando questi parallelismi non per vuota erudizione, ma perché tutto ciò che in realtà c'è in questo brano ha un richiamo o con quello che dice il nostro Signore dopo di se stesso, oppure con ciò che è stato profetizzato nell'Antico Testamento con altri episodi già avvenuti che in realtà erano o richiami o prefigurazioni della nascita di Gesù. il punto successivo. Io perdo il figlio. E siamo, insomma, verso la fine. Allora Maria disse «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». La serva del Signore ha due richiami. Uno ha il fatto che Israele è considerato il servo di Dio. Quindi in realtà Maria rappresenta Israele stesso, l'Israele rinnovato, è la madre del nuovo Israele che servirà a Dio con giustizia, quindi la madre della Chiesa. E l'altro fa il richiamo sempre alla profezia di Isaia del servo di Iaves che in realtà è il suo figlio che viene da lei generato. Vorrei tornare soltanto a un passetto indietro quando dice «Dopo che gli dice nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio», l'angelo dice «Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile prima di dirgli nulla impossibile a Dio». Questo mi piaceva farvi notare che la differenza nelle due annunciazioni, quella a Zaccaria e quella a Maria, è proprio qui. Siccome entrambe sono accompagnate da un segno che viene dato alla persona che riceve perché possa credere tranquillamente la veridicità delle parole che riceve dall'angelo. Però siccome Zaccaria dubita, viene reso muto, Maria invece che non dubita, gli viene dato come segno l'avveramento di una profezia già fatta, cioè l'avveramento del concepimento davanti a Elisabetta che per la sua insianità non avrebbe potuto del piccolo Giovanni Battista. prega per noi Santa Madre di Dio perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Tuo Figlio. La grotta dell'annuncio situata nella basilica inferiore ha le pareti rocciose così come il soffitto che fu tagliato a volta probabilmente nel IV secolo quando davanti alla grotta venne retta una chiesa bizantina di cui si vedono l'abside e una parte dei pavimenti a mosaico. L'aula aveva coperto un precedente edificio sacro del quale sopravvivono cospicui resti architettonici. Ognuno degli edifici ecclesiastici costruiti in questo luogo fu costruito in qualche modo sempre attorno a fianco alla grotta come per inglobarla in un complesso degno di venerazione un complesso che i pellegrini chiamavano così forse un po' semplicemente la casa di Maria in effetti una parte di questo complesso la parte più antica rappresenta davvero degli ambienti domestici che possono essere davvero il resto della casa di Maria. All'epoca Nazareth era un villaggio rurale di piccole dimensioni e scarsa importanza le case erano costituite da grotte naturali davanti alle quali venivano aggiunti altri ambienti e muratura. Certo la grotta appare notevolmente trasformata a lungo i secoli dalla venerazione dalla devozione dei pellegrini ma qualche elemento antico che mostra il suo uso domestico fino ad oggi rimane ci sono tracce dei silos dove si poneva il grano raccolto nei campi ci sono tracce di vasche dove si raccoglieva l'acqua o per l'uso domestico allora si tratta di vasche grandi come delle cisterne oppure come bagni nelle abitazioni di cui si sa che gli ebrei facevano molto uso a causa della loro legislazione che esigeva in alcuni momenti il bagno rituale tracce di decorazioni a freschi mosaici graffiti sugli intonaci delle pareti testimoniano nel tempo il culto presso la sacra grotta i mosaici sono conservati in situ davanti alla grotta medesima qui si vede una croce al centro di una corona che indica la vittoria della croce un pensiero che doveva essere familiare all'epoca dell'imperatore Costantino quando il cristianesimo riuscì a vincere la sua battaglia alla fine contro il paganesimo dominante nell'impero nel museo abbiamo invece i più umili graffiti trovati sugli intonaci dei pezzi architettonici già appartenuti a questo edificio più antico il più importante risale al secondo terzo secolo e reca inciso il nome di Maria accompagnato da due lettere greche chi ed epsilon abbreviazione del saluto angelico caire rallegrati rallegrati Maria le prime parole dell'ave Maria la più antica invocazione alla vergine allora il sito è particolarmente emozionante quando sono stato in terra santa un anno e mezzo fa mi sembra è uno dei tre posti che veramente mi ha colpito la grotta pensare che lì è avvenuto questo evento incredibilmente straordinario che ha cambiato non solo la storia dell'uomo ma poi la vita di ognuno di noi comunque la si voglia vedere anche non credenti anche non credenti l'ha cambiata insieme alla grotta della natività e al santo sepolcro sono stati i tre posti che più mi hanno emozionato la costruzione è moderna enorme e forse entrando all'inizio sembra anche un po' fredda ma davanti al posto dove c'è scritto ic qui si prova una notevole emozione adesso volevo concludere dicendo due cose la chiesa celebra il ministero dell'incarnazione e la vocazione della madonna insieme perché questo passo racconta queste due cose intimamente connesse ma logicamente anche separabili la festività viene festeggiata il 25 di marzo che è esattamente nove mesi prima del Natale per ovvie ragioni e nei calendari antichi anche nel nostro è considerata una festa del Signore però tutti i testi se fate caso quando ci farete caso il 25 di marzo prossimo si riferiscono principalmente alla Vergine per molti secoli è stata considerata non soltanto una festa del Signore ma anche una festa una festa mariana proprio perché accanto all'inizio della salvezza con l'incarnazione c'è la chiamata di Maria la tradizione infatti riconosce uno stretto parallelismo tra Maria e la salvezza Maria vista come nuova Eva la prima Eva che per il peccato per cui il peccato entrò nel mondo e la nuova Eva che diventa quanto madre del Salvatore madre di Cristo e allora c'erano tre passaggi che forse meritano di essere riguisti del brano del Vangelo che abbiamo visto il primo è quel non temere perché quel non temere ci porta di fronte a due considerazioni una che anche la Madonna che era priva di peccato quindi in una situazione di grazia per noi anche incomprensibile probabilmente aveva timore il che vuol dire che il timore in sé non è un male non è un limite il timore è un limite se uno si lascia bloccare se non si affida al Signore se non lo supera cercando di aderire a chi lo lo può far superare dall'altro lato quel non temere a me mi riecheggia e spero anche a voi così ve la voglio dire perché in quel non abbiate paura aprite le porte a Cristo che proclamò San Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato il 22 aprile del 78 questo lo ha notato perché non mi ho ricordato ed è questo ed è quello stesso non temere lo stesso contenuto dell'affermazione dell'angelo gli sta dicendo l'angelo a Maria non temere io non vengo a caricarti di pesi sovrumani o di qualcosa che non puoi portare ti sto chiedendo di aprire le porte in quel caso del suo grembo al nostro Signore a noi non ci chiede tanto non ci chiederà di arrivare sul Golgota con Cristo però ci chiede sicuramente di seguirlo senza avere paura perché non c'è da avere paura il secondo punto che era interessante da vedere è quello della risposta di Maria perché è vero che è il Signore che chiama dice San Paolo nella lettera degli Efesini che il Signore benedetto sia Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei Cieli in Cristo in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo prospetto nella carità cioè la chiamata del cristiano ha un'origine antichissima questo pezzo questo brano della lettera di Efesini mi fa ridere perché siccome quando parlo con i miei figli dicono che parto sempre da Adamo ed Eva un giorno gli ho citato questo pezzo gli ho detto no questo è da prima di Adamo ed Eva quindi preparatevi a una lunga discussione ma non 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 è questo il motivo il Signore ci chiama noi siamo la prima azione è quella di Dio ma senza la nostra risposta non c'è possibilità di neanche di salvezza e quindi la risposta di Maria è lei la causa della salvezza Gesù si è incarnato perché Maria ha detto sì magari il Signore aveva un piano di riserva non lo so però sicuramente Maria avrebbe potuto dire no quindi il libero il consenso di Maria è quanto di più libero ci sia stato libero tanto quanto quello di Eva che l'ha negato al Signore per darla a qualcuno San Bernardo dice una frase in un commento all'annunciazione dice la terra e il paradiso attendono il tuo sì o vergine purissima perché probabilmente per un istante qualcuno è rimasto in sospeso mentre l'angelo parlava in attesa di questa affermazione di questa risposta positiva di Maria la libertà per noi cristiani ma per tutti gli uomini che siamo dotati di libero arbitrio è imprescindibile e si accompagna con la responsabilità che portiamo della scelta che compiamo ogni scelta che facciamo è sempre quella importante per Dio o senza Dio e questo vale anche perché è una risposta alla vocazione che abbiamo ricevuto l'ultimo pensiero poi siccome ho superato di qualche minuto il tempo vi grazie di un altro pezzetto che mi ero preparato ed è questo da questo brano emerge per la prima volta poi emergerà comunque prorompente l'unione di Maria con Gesù a Gesù dicono alcuni santi si va per Maria e la venerazione che i cristiani hanno per Maria che non è adorazione evidentemente perché non è Dio Maria è una creatura come noi però è superiore a quella di tutti gli altri santi proprio perché è stata la madre lei ha portato in grembio il redentore ed è lo strumento ed è strumentale scusatemi all'adorazione di Gesù di Gesù Cristo stesso la chiamata di Maria insieme che ci porta così ci porta a considerare che l'incarnazione vi leggo questo pezzettino della enciclica allora è Cristo che ha ridato definitivamente all'uomo la dignità e il senso della sua esistenza nel mondo senso che egli aveva in misura notevole perduto a causa del peccato dice San Giovanni Paolo II quando il nostro Signore dà questo senso consente cioè assume su di sé tutte le realtà umane nobili e quindi ci chiama alla sua sequela lì dove siamo assume su di sé il lavoro l'amicizia la famiglia il dolore la gioia e sta a indicare che tutte queste cose che noi viviamo normalmente devono essere amate ed elevate questo è il senso della vocazione universale del cristiano che comincia nel momento in cui viene annunciato a Maria l'incarnazione e Maria dice sì a Maria